su le maillarde me ne freghiste totale maillarda sono i migliori amici del mondo tu ti devi levare dalle palle no maillarda no ti prego maillarda no maillarda non uccidermi ti prego grandi mitroni tu scappi in mezzo dai voglio ucciderti col pugnale no ok ok scherzavo vuoi ucciderla col pugnale è il contello così alla fine casuale ma è lo spettro lo spettro è morto ma posso accedere ad alcuni ricordi queste caverne scendono per chilometri l'alveare sta sembrando un esercito e si prepara a invadere la terra dobbiamo fermarmi che schifo dove sono finito dove mi sono seduto eh ma va bene ok anche per questo episodio di destiny è tutto noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su game legacy ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao